esico ma questo nuovo video io sono volti e io sono sassi e noi siamo di più noi abbiamo cambiato nome certo da oggi faremo una challenge comunque questa challenge si tratta di chi beve più bicchieri d'acqua di casa allora vogliamo dire che sono andando una bomba 268 scritti falcon ragazzo che ho commentato con l'olio che si sa se aveva problemi adeguato ha avuto il suo canale ma mai a youtube proprio grande youtube e così e quanti video e quanti like c'è qualche infametto che mi fai like a youtube commentate se il video mi è editato bene no 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 come diceva a chi lo dice fa ho sentito il rumore perchè sta il condizionatore acceso allora raga abbiamo riempito i bicchieri siamo la siamo la siamo la iniziamo ma ma c'è lo hai fatto papà ma sai che vieni qua piano ma sono allontano ma ti stai drogando con l'acqua guarda guarda ti fa sentire eh ti fa sentire eh come stiamo due e due come stanno le cose mamma bollificia proprio è vegano e io c'ho sto pochino dodo è un angolo è brutto acqua ma stai a nord non vanno troppo fischio bianco mui di nuovo mui di nuovo 4 4 3 è che buio è che buio ma schottada a dopo ok sa se vive più o meno oh ci sono buonassi non so è buonassi questa è la dita non so ma non faccio il brutto se non tu a me non faccio questa acqua stava nel frigo sta facendo la condensa il bicchiere questa è andata il frigo questa è andata il frigo adesso ci sarà una e lo cante sulla bilancio assolghe oh c'è un po' il bischio di me direi che c'è la gamba No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Hashtag sassi ma mi se va baca pao. Hashtag de gapau, gapau. Hashtag sassi ma te capau bopi. Keio! 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 Capau! Capau tecnico! Oh Dio. Guarda sta morenda. Io con questo non volevo passare challenge perché questo mi fa rindere e sputo tutto. Ti ha cacciato un raso. Ah, so. Vabbè. Per questo video il trucco? 5 a 4. Ok. Per te 5 o 4? 6. Io ho fatto 6. 5 o 6. Ho fatto 6 con lui. 5 o 6. 5 o 6. 6 raga ho fatto 6 con lui. Eh, 6. Qua però. Allo 5 e mezzo. 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 Sì. telegram mio gruppo telegram se volete chattare con me una collaborazione su forse appunto rimucare il cilindro poi grazie per il 268 8268 iscriviti un saluto da ballpix e dai 2 new 2 leaders new iscriviti al canale 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 iscriviti al canale